Solidarietà e buona musica ancora una volta a braccetto per il Calcit. Torna infatti la lunga maratona musicale Mercatino in concerto giunto alla sua 24esima edizione con 5 concerti di musica classica, jazz e moderna con concorso musicale a categorie di età. Sono già oltre 350 gli iscritti alla manifestazione. La rassegna comincia mercoledì 17 maggio alle 21 al circolo artistico con 5 serate di concerti di musica classica, jazz e moderna mentre il concorso giovedì 25 nel pomeriggio e durerà per 4 giorni con la finale domenica 28 maggio nel pomeriggio con 25 maestri aretini che si alterneranno nelle 7 commissioni. Io seguo questa cosa da parecchi anni, l'ho vista partire come un ruscelletto è diventato un fiume in piena perché ci sono tantissimi ragazzi di tutte le età che è particolare con tutti gli strumenti e la qualità è cresciuta insieme con la crescita musicale di Arezzo. Quest'anno si aggiunge anche il premio Città di Arezzo offerto dall'amministrazione comunale. Dare un riconoscimento che è la dimostrazione di un apprezzamento e di un sentirsi vicini comunque a questi giovani talenti credo che sia un dovere che il mio assessorato e l'amministrazione hanno.